l'abbinamento solo perché se tu lo fai questo ha 15 uve diverse tutte della valpulicelle dedicato dedicato alla signora dedicato alla ragazza dedicato a questa guarda vedi che è sicura non è un bel non è davvero non è proprio non è molto buono non è molto buon e non è molto buon non è molto buon non è buon wow wow 100 giorni di affocatura sei pronto? attenzione 3 2 prendi la pietra wow 100 giorni di affocatura sì quanti giorni? 100 100 giorni di lockdown tanti auguri a te tanti auguri a te tanti auguri a te 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 a te